Sette magnifici sapore, sette flippe, nelle vacanze e nel lavoro, sempre vicino a te. Scegliere potrai quel che vorrai, siamo sempre pronti a dare al cuor un po' di buon umor. Sette magnifici sapore, sette flippe, nelle vacanze e nel lavoro, sempre vicino a te. Cerca di non restare mai senza flipper, ti sentirai come un cowboy quando sarai con noi. La serie flipper perugina è fornata da sette delizie al cioccolato. I magnifici sette flipper vi attendono. Trocanti, lenti, mandorle, ciliegie, aranciotti, tenerelli, nocciole. Sette delizie al cioccolato, un flipper al giorno, una settimana di dolce. I magnifici sette flipper perugina. A presto!